Questo non mi sembra... Allora non so che dire, provo a guardare... Ciao, come mai qui? Per i primi tempi, un'idea di Gianni. Ecco, chiediamolo al padre. Senta, in tutta sincerità, secondo lei questo libro è adatto a una signora? Certo, perché no? Andiamo bene. Andiamo bene. Scusi, ma non è cosa, no? Non è cosa, allora prenda questo. Senti, hai bisogno di qualcosa? No, niente, grazie, non mi serve niente. No, 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 no. No? No. Lo sfogli, vedrai che questo va bene. Senti, e qui ti trovi bene, sì? Perché posso scegliere? Vedi qualcuno, vedi gli amici? Qualcuno. Se un giorno ci vediamo, magari ti va di aprirti un po', di parlare... Non mi va di parlare di niente. Guardi che anche questo non va, è il solito libro, la solita storiella. La solita storiella? Eh sì. Senta, ma perché mi dice sempre di no? Per il riassunto qua dietro, per il titolo, per la copertina, perché? Se lei me lo spiega, glielo cambiamo, sa? Non è quello che cerco. Non è quello che cerca, sì, la signora guardi, vedrà che la sua amica piacerà, se ne marrà, sia tranquillo. Se non gli piace, glielo cambiamo, glielo cambiamo. E tu stami a sentire, Andrea. Io sono paziente, io cerco di comprendere, io naturalmente sono... Ora sera, padre, io dovrei fare un regalo a una bambina di otto anni. Ah sì? Sì. E chi se ne frega, va bene?